E' stato spedito martedì 22 giugno in direzione Lusaka dall'Africa Chiama il container della solidarietà con i materiali di arredo e alcune attrezzature mediche che serviranno a completare il centro di maternità Shalom che verrà intitolato alla memoria di Italo Nannini. Nella conferenza stampa che si è tenuta martedì 22 giugno in via Giuseppe Filippini 15 nella zona industriale di Bellocchi, Anita Manti, presidente dell'Africa Chiama, ha illustrato nel dettaglio il progetto. Nel 2018, ha spiegato la Manti, in accordo con il Ministero della Salute Zambiano, abbiamo stipulato un contratto nel quale l'Africa Chiama si impegnava a realizzare la nuova struttura del centro di maternità e, d'altra parte, per la sostenibilità del progetto, il Ministero si impegna a fornire tutto il personale necessario. Parliamo di un ospedale che ospiterà 16 posti letto. Voglio precisare che siamo presenti in un quartiere fortemente disagiato dove vivono circa 400.000 persone in condizioni igieniche precarie. Oggi per noi è un momento importante che cade proprio nei vent'anni dell'associazione. Anita Manti ha poi illustrato anche i costi. Il container ha un costo di 9.687 euro, una cifra che stiamo cercando di reperire attraverso il sostegno di tutti. All'interno contiene il materiale di arredo necessario al centro di maternità. Letti, comodini, mensole, mobili, strumenti biomedicali come ecografo, fotocopiatrici, scrivanie, materiale donato da aziende del territorio e da privati e a tutti loro va il nostro ringraziamento. Continuando a parlare di cifre, il progetto della struttura esterna è costato 50.750 euro. A questo vanno aggiunte le attrezzature biomedicali e gli arredi che hanno un valore stimato pari a 52.050 euro. Anche il comune di Fano e la diocese hanno sposato questo progetto. Un progetto importante lo ha definito Dimitri Tinti, assessore al welfare di comunità del comune di Fano. Vedere questo container della solidarietà pieno di materiale necessario ci riempie il cuore. È un progetto della città a cui il comune ha creduto fin dall'inizio. Presenta alla conferenza anche il Vescovo Armando che ha benedetto tutti i volontari che stanno mettendo in maniera del tutto gratuita il loro tempo a servizio di questo progetto. Madre Teresa di Calcutta, messa in evidenza al Vescovo, diceva che la carità o ti impoverisce o fai solo beneficenza. Noi Vescovi delle Marche abbiamo sentito questo tema del Covid in Africa in maniera così profonda che nell'ultima riunione che abbiamo fatto abbiamo deciso di donare uno stipendio mensile per un progetto per contrastare proprio il Covid in Africa.